Ciao belle c'è belles, ciao ma qui oggi Cipriote. Io so l'Italia muscurui, ambleppe te carcassalicchia potoraino Italia. A orra d'orra apparisse a me od Italia e Cipro, curemeni e dopo me so io ce fa usciatma, c'ha tizun decessialla. De apandisi cioftaronne coruo, de callistia bella parre, e di chi ma cioftaronne apparrano di tenda italione, criocco, loxerolla, se d'acronologia spurtificio esisti, sindici a un pallato, cigno e quattro tiglio. Deftero pangoni a pollemo, tanks, pompe, scottomice e emmata, e resistone, pompu e hitler, mussolini, bestren. Amblep sumenau a parrabamma storte. In quale epoca vi sarebbe piaciuto vivere? E chi vorreste essere state? Nel 42... ...1942... ...per... ...durante la seconda guerra mondiale? Nel senso l'anno va bene, poi c'è una motivazione pure a tutto ciò. Sì, per vedere realmente la seconda guerra mondiale, visto che i libri parlano pagine e pagine, beh, non la volevo vivere, però tanto so donna, quindi il militare non l'avrei fatto da restare a casa con la paura di... ... 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